Questa casa che è rimasta, ci è rimasta? Buonasera, come andiamo? Dio non bello, auguri e buona Pasqua, qui in questo paese è solo lecce, fuggiti tutti? Quanti c'è state? Quanti siete fissi? Cinque? Sei per su? Dopo Pasqua ne vanno tanti. Quanti ne vanno? E poi ne vanno le sette otto. S'era doppia. Quello è stato qualcuno. Quello è Capovalle, lì è provincia di Amantala. Vuoi che fare tutto il giorno? Sì, che fare? C'è l'orto, c'è l'orto, fa riga sull'orto. Come si chiama il suo paese? Valle, è Capovalle. Su che comune sta? Sulla Mandola. Qui sotto a Mandola, il macerato? No, fermo. Qui sotto a Montefortino. Montefortino? Sopra a Mandola. Sulla Mandola è sopra. Sopra? Sì, sì. Vi dispiace che siete andati via tutti, che siete rimasti da soli? Mi c'è paura. No, se c'è paura no. No, c'è pure figli con la moglie e figli. In cinque chi siete? Voi? No, poi c'è quella lì sopra pure. Della famiglia sua chi c'è? Sì, siamo in cinque. In cinque? Agli altri lavora fuori, dove stai? In Amandola? In Amandola, sì. In Amandola. Dopo Pasqua vieni. Ah sì? Dopo Pasqua. Non vi annoiate da solo? No, no, perché mi annoio? Questa mi ha faticato. Fate l'orto? Poi che fate? Eh, dovete stare l'appellotto, mi ha faticato. Ma poi c'è i gatti che ti tenono in compagnia? No, non fai sì. I gatti da compagnia. Chi c'hai? Che c'hai? Il caccioletto ce l'hai ancora? No, no, ma se morire non faccio i gatti. Non lo fai? No, no, perché li mangia. Tocca a mantenirli? C'è il caccioletto. Ma da quanti anni è che è così qui in suo paese? Come? Che c'è cinque persone, sei persone. No, è un bar d'animo che va... No, è quelli che vanno a Amandola, no? Sì. Quei che voi vi ricordate che c'erano più persone di tutti quant'erano? Dieci anni fa? Da Amandola dieci anni fa era sopra cento. Cento persone dieci anni fa. Da Amandola che si mangia. Dal duemila, via via. Quando ero frigo io, quanta gente c'era di più? Un centenario. Quando c'era Peppa questi, quanti c'era? Sì, c'era un centenario. C'era le pecore, cento, cento e venti. Ma che si ma tu? Era bravo. Il massimo che siete arrivati da abitanti? Come abitanti? Quanti eravate? Il massimo che siete arrivati qui? Cento o più di cento? Cento, cento e venti. Eh, parecchie. Beh, erano altre quattro famiglie. Più di cento? Ogni famiglia c'è otto, nove figli, dieci. Che prima mi chiese guardare cosa. Ma che fai tu? Mi registro a me? Sì, mettiamo su internet. Io ti ho capito. Eh, questo è importante. Io ti ho capito. Perché noi vogliamo riscoprire questi paesi così e farli ripopolare. Ah, sì. Siete contenti se vi portiamo cinquecento persone? No, dopo ci devi a megnare. Altro che lo cazzoletto. Se si porta a megnare. Apriamo i negozi, fanno un supermercato. Sì, però si porta a megnare. Se si porta a casa. Apriamo il supermercato. E poi fanno un'autostrada qui. Sì, sì, un'autostrada. Eh? Se fanno un'autostrada, una strada di Geppero. Però è simpatico. Quanti anni ha lei? 89. 89. 90? Non c'è sederiano ancora. No, no. Beh, ci manca poco. Quanto ci manca? Eh? L'anno prossimo. Tu che sei? 26. 26? 26. Con Tonino stava nel ragazzino. Come si chiama lei? Viola Federico. Federico. Viola. È stato sempre qui a valle, non si è mosso mai. No, vuoi quando ho girato? Dove stava prima? Qui è l'ultimo stato Smerillo. Smerillo? Mh. Dove stava Smerillo? Quello che avevamo visto prima. Eh, Smerillo e Montefalcone. Dopo sono stato a Piedivalle. Questo paese qua io. Ma grosse città di Roma? Che ne so? No, no, a Roma c'è già vado perché c'era nipote. Però va che vengo. Ah, hai capito. Ah, hai capito. Andate a caccia con il papà quando arrivate? No, io a caccia no. Tu non ce andavi? No. No, no, no. Che tu che c'hai? Tu eri? Stavi tra papà e Giacomino? Sì. Ma era tanti. Io mi ricordo. Ma è che si matta. Ma è che era tanti. Dovevo pensare. In casa mia moglie, ma... Perché allora erano 9 figli, più la madre un padre 11. A Capo Valle Upenese 10-12. Di famiglia, mica uno. Adesso più di uno o due figli non li fanno? Eh sì, no. Non li fanno, non li fanno. No, no, perché non li fanno a capo a bagnare. A me è una, una e mezzo. Dai, ma voi siete contenti se invece portiamo 500 persone? Sì, sì, sì. Sì, ma devi portare la bagnare. Deve portare la bagnare. E per oggi che si ha portato la bagnare è un letto per turbire. Lo spazio c'è stato. Però abbiamo visto che qua c'è tante belle casette ristrutturate e tenute bene. Sì, sì, ristrutturate e collegate. Sì, sì. E quelle lì ci viene solo d'estate? Quando ci viene? D'inverno? D'estate. Maggio e parte d'estate? Eh, ma Pignotti per esempio ve ne manco più. No, Giulio. Giulio. E' molto più. No, ma Giulio pure in più. Giulio non gli può ria, ma dopo ce l'ha perché la moglie di Piedivalle. Eh. Cioè... Va giù pure? Eh? Va giù a Piedivalle? Sì, dorme io. Va meglio. E voi ve spostate con la macchina? Con cosa ve spostate? Con niente? Ha levato pure la luce? Ha levato pure la luce? Eh, la luce no. Non c'è stato il contatore. Ve spostate con la macchina no? Sempre qui state? Sì. Beh, con la mano e con il figlio. Se no piangeva qui. Eh. Tu figlio. Non c'è una corriera che riaffina qua su? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Quanti stai in macchina? Quanti stai in macchina? 3? 4? Quanti stai in macchina qua su? 4, 5. Quelli su Piedivalle c'è? No, quelli su a Sriglia. Qui ci stanno. Io e figlio, qui ci sono 5. Dopo ci stanno quelli lì che ha per trovare la mandra. Eh. Ci stanno 4 o 5. Eh. Sarfati? Eh, una decina e passa. Una decina. Beh, va bene. Confronto a 10 anni fa? Sì, però quelli si portano a mangiare già a mangiare. Vabbè. Vuoi pensare alla famiglia vostra, dai. Eh. E tu hai detto, tu portala niente. Però si deve portare. Il tellotto che c'è coltivato il tellotto? Eh, le patate, queste roba. Tutta roba per casa. Non è che vendete niente. No, no. A Cinghiali come vai? A Ingevago. No, ma dico, ma te si mangia le patate e i cinghiali? No, no. Perché sta reggindato. Eh, però sono reggindi? Eh, allora si mangia. Eh. Quanti? E' tanti? Ah, noi sono contati. Ma è tanti, dice. E che? Dice che non è tanti. Casa vostra qual è? Eh? Casa vostra. Qual è? Sì, questa qua. Questa qui è bella. Casa vostra è abbastanza ristrutturata. È bellina, via. Ristrutturata. Sì, sì. È il cazzo di domani che è stata ricommendata. Ah. Col terremoto perché l'ha mangiata la madre. Col terremoto l'ha messo a posto. Sì, messo a posto col terremoto. Allora col terremoto ce l'ha guadagnato. Sì, no, ce l'ha rimesso. Come ce l'ha rimesso? Perché già l'ha di tutti i soldi. Eh? Non già l'ha di tutti i soldi. No, se l'hanno mangiato. No, quello lo sai loro. Dopo non ci ha dovuto a scacciare. Eh, ci siamo scacciati un pochino. È stato un guaio grosso. Eh beh. Anche perché qui è cascato su tutto. Eh beh, guarda lì. Vabbè, io vi saluto. Siete su internet. Sapete cos'è internet? Sì. Siete su internet, eh? Vabbè. Come amore. Salutatelo. Salutatelo. Saluto. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.